Ah, sono qua, oddio, una cosa che fa. E che non si fa? Questa è una reclame, la marcia con domani. Noi, 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 noi. C'è dentro, giù, lè, non, giù, giù. E i scegliere la parte, giù, giù! E lì, scegliere il giù? buvo 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 io per qual? aspettate aspettate ahahahahah uff 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 o uff 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 spingo se ne vediamo per i... se ne vediamo per i nove ma scendere, non mettete qua la orecchia quanto ci sta a mettere? un quarto d'ora? boh non so se ne vediamo che sta a fare non so se ne vediamo sedia buon anno non so se ne vediamo e non so se ne vediamo che vuoi non so se ne vediamo non so se ne vediamo Grazie a tutti.